Uno speciale Polifemo qui da Taranto per tastare un po' il polso delle attività commerciali che hanno subito pesanti limitazioni e restrizioni in seguito al DPCM. Stiamo cercando un po' di tastare il polso e lo faremo con rappresentanti di attività commerciali facenti parte di Confartigianato Taranto. Proseguono i nostri incontri con i titolari delle attività commerciali di Taranto per commentare, per vedere come si sta procedendo all'indomani delle misure restrittive previste e imposte dal DPCM di Conte. Siamo quest'oggi a Taranto, ripeto, in Via Liguria presso il bar Il Caffè o al mio fianco il titolare dell'attività commerciale Ivan Cesario che fa parte di Confartigianato Taranto. E allora Cesario, una restrizione a mio avviso assurda quella di chiudere tutto alle 18, chiaramente un danno commerciale, un danno economico non indifferente. Certo, sì, buongiorno. In realtà noi ci siamo adeguati a tutte quelle che erano le linee guida emanate dal DPCM, quindi il distanziamento sociale, l'eliminazione dei posti a sedere per mantenere la distanza, gel igienizzanti e tutto. Io non capisco perché non si può continuare a lavorare così, anche perché o chiudere alle 18 oppure chiudere alle 23, come si stava parlando all'inizio, non credo che la situazione cambi qualcosa. Anche perché noi chiudiamo le nostre attività commerciali penalizzandoci quelli che sono gli introiti, gli incassi, però poi ti rendi conto che c'è gente che passeggia, soprattutto i mezzi di trasporto sono stracolmi di gente e non sono controllati. Mi dispiace anche dei colleghi della ristorazione o delle palestre perché loro sono stati penalizzati ulteriormente e maggiormente rispetto a noi, però poi non si va a controllare quelli che sono i centri commerciali che sono aperti, ripeto, ritorno a dire i mezzi di trasporto che sono stracolmi di gente, ma anche le piazze, le vie SS sono piene di gente. Ovviamente, secondo me, bisognava agire in maniera diversa rispetto a questa restrizione della chiusura alle 18 perché ha poco senso. Nel momento in cui noi rispettiamo tutte ciò che sono le regole che ci sono state date, le linee guida, quindi ripeto, il distanziamento sociale, eccetera, eccetera, igienizziamo i locali costantemente con prodotti specifici, credo che potevamo continuare a lavorare così facendo attenzione a tutti quanti. Oltretutto, Cesario, c'è da dire questo, il rischio Covid come c'è dopo le 18, ci sarebbe anche la mattina, quindi non si riesce a capire perché. Nel momento in cui il bar, parliamo di bar, non di discoteche, in cui ovviamente l'area, lo spazio non è enorme, c'è un distanziamento, quindi non vedo quale sia il problema. Cioè è illogico, è assurdo avere timori dopo le 18 quando la mattina vengono applicate quelle normative che pari pari potrebbero essere trasportate, riportate, come lo sono sempre state, nelle ore successive alle 17, alle 18, a quello che sia. Anche perché, voglio dire, rispetto a questa cosa, al distanziamento, alle normative, i controlli ci sono stati e sono stati verificati che per la maggior parte delle attività, io parlo in prima persona, soprattutto la mia, noi manteniamo i criteri che ci sono stati dettati per queste regole, quindi si poteva continuare tranquillamente a lavorare. Il problema sicuramente Covid c'è, però facendo attenzione, potevamo, tra virgolette, condurre una vita, non dico tranquilla, ma perlomeno facendo attenzione a una vita normale. Per concludere, c'è da dire che intorno ad ogni attività commerciale ruota una certa economia, perché ci sono dipendenti, ci sono famiglie, quindi bisogna anche comprendere il danno economico che un provvedimento del genere comporta nelle tasche degli italiani. E' certo, anche perché se dobbiamo stare alle promesse che sono state fatte durante la prima pandemia, per quanto riguarda marzo, aprile e maggio, i fondi che un po' si sono esoriti, un po' si sono arrivati. La cassa integrazione che non arrivava mai, che a molti non è ancora arrivata. Non è arrivata, quindi è normale che uno perde anche le speranze, poi sentiamo in tv parlare di miliardi a destra e manca, promesse e non promesse, però chi è stato scottato come noi in precedenza, è normale che siamo poco fiduciosi rispetto a questi aiuti del governo. Speriamo si risolva quanto prima. Stiamo cercando di fare il punto della situazione attraverso, analizzando le conseguenze di questo lockdown, perché così va definito, seppure non come quello del marzo scorso, tra le varie attività commerciali di Taranto. Siamo nel quartiere Porta Napoli, a Taranto, presso appunto Mister Ghiaccio e siamo con Eliseo Leo, che ne è il titolare. L'azienda produce ghiaccio, come è facilmente intuibile dalla denominazione Mister Ghiaccio, ma chiaramente nel momento in cui i bar procedono a ritmi ridotti, perché alle 18 scatta il coprifuoco, automaticamente le conseguenze ci sono anche per chi produce ghiaccio per i bar. Facciamo un po' il punto di questa situazione. Sì, bene, è esattamente quello che dicevi tu prima. Ovviamente è un'azienda che basa il proprio business sul ghiaccio, ovviamente, perché siamo un'azienda di produzione di ghiaccio alimentare per i bar. E ovviamente, avendo ridotto i bar, gli orari di lavoro, quindi si è ridotto la loro fascia di lavoro, di conseguenza si è ridotto anche per noi l'attività. Che non è un bel momento, ovviamente, è un momento molto difficile. Da una settimana è completamente fermo per noi il mercato, cioè zero. Ovvio che andare avanti di questi ritmi, cioè lentissimi, diventa una cosa estremamente impegnativa per un imprenditore. Insomma, voglio dire, è facilmente intuibile la difficoltà che si sta vivendo, è facilmente intuibile la difficoltà anche con i nostri collaboratori. Ovviamente ci vedono in un momento, come dire, di fermo totale nell'attività e iniziano anche loro a chiedersi che sarà mai, insomma, di un'attività che è impostata fondamentalmente per il mondo dei bar, ristorazione, hotel e catering. Un sistema, ovviamente, è un ingranaggio nel momento in cui si ferma una rondella di questo ingranaggio, ecco che si ferma un po' tutto l'orologio, dal bar a voi che producete ghiaccio alimentare, ma poi le conseguenze ci sono anche per i dipendenti, per i vostri dipendenti. I dipendenti hanno famiglie e nelle famiglie ci sono i bambini. Come vedete si viene a creare un circolo non virtuoso ma vizioso in questo caso. Sì, in effetti, si viene a creare un circolo vizioso che, quello come spiegavo prima ovviamente, in questo ultimo periodo i collaboratori che abbiamo, insomma, iniziano a chiedersi che sarà mai del nostro futuro, cioè cosa ci aspetterà domani. Anche perché viviamo di incertezza continua da parte di questo governo, insomma, non è un governo stabile, ma non solo. Non danno risposte, o meglio, le risposte che ci danno ce le danno a, come dire... Colpi di decreti mandati in onda in tv. Eh sì, è un continuo, è un susseguirsi di decreti che ovviamente ha stretto giro a un mese, venti giorni e poi può cambiare di nuovo la storia. Grande punto interrogativo per il futuro. E qui incombe questa data che ci fa paura, si vocifera che se i ritmi, gli indici, l'indice di contagio dovesse andare oltre, si potrebbe arrivare al 9 dicembre a un lockdown totale. Ci auguriamo seriamente che non sia così, perché davvero poi la situazione diventa drammatica, drammatica. Ovviamente non vogliamo che si replichi la cosa, insomma, che sia una fotocopia di quello che abbiamo già... A marzo. A vissuto a marzo, che è stata una grande batosta per noi imprese, insomma, metterci completamente a zero nel lavoro non è stato facile. E' stato così tanto poi difficile l'estate, questa in corso, dover riprendere i mesi passati che abbiamo perso, fatturato, le spese continuano ad esserci. Ovviamente i dipendenti erano comunque al servizio dell'azienda, ma è stato veramente difficile. Ci auguriamo di no questo, ovviamente. Oltretutto se malauguratamente l'indice dovesse salire, ciò significa che queste misure che sono state prese, queste chiusure parziali di bar, ristoranti e quant'altro, non avevano senso. Perché a mio modesto avviso il vero problema sono i trasporti, sono le scuole. Quindi se andando a dare questa medicina, cioè chiusura alle 18, la medicina non produce alcun effetto, evidentemente non era quello il male. Ma bisognava trovare cause e ragioni che stavano a monte. Il governo e la regione da maggio a un mese fa avrebbero avuto tutto il tempo per studiare piani alternativi, perché si sapeva che, bene o male, la seconda ondata sarebbe arrivata. Allora hai avuto tutto il tempo di studiare come organizzarti a livello sanitario, a livello di trasporti, a livello di scuola, a livello di attività commerciali. Ciò non è stato fatto. In estate si era felice e contenti, si diceva venite in Puglia e ora si aprivano le discoteche e ora, come dire, il coccodrillo versa lacrime amare. Eh sì, hanno semplicemente rimandato il problema, insomma, quello che si poteva studiare a tavolino fatto bene qualche mese fa. Si è programmato. Si è programmato e hanno semplicemente rinviato la cosa. Tamponato. Qualche giorno fa. Cosa che non vedo giusto, voglio dire, chiudere un bar, un'attività del mondo della ristorazione alle 18, vorrei solo capire cosa cambia da, voglio dire, vuol dire che il virus è in circolazione, in giro, fino a... Dorme fino alle 18. Dorme fino alle 18. Si sveglia. Si sveglia, quindi questa è la cosa più tragica. Come le palestre, il Covid evidentemente ama le palestre ma non il campionato di calcio. In serie A. Certamente che sì, anche perché aggiungo un'altra cosa. I ristoratori, gran parte dei ristoratori, non soltanto nel nostro territorio ma in tutto il territorio nazionale, si sono organizzati per i mesi precedenti, mesi scorsi, ad avere distanziamento tra i tavoli, clienti e via discorrendo. Ora, detto questo, cosa cambia se chiudiamo alle 18? Se le distanze si potevano comunque tenere prima, adesso non è più possibile. Cioè, sta di fatto che mi fanno capire che il problema sussiste soltanto dopo le 18, quindi. Cioè, è una cosa non chiara per me, non chiara. Ecco, in tutta questa situazione di confusione, anche così l'imprenditore si trova in una situazione in cui naviga a vista, voi fate parte di un'organizzazione di categoria che è appunto Confartigianato Taranto, quindi una realtà organizzativa di categoria che in molte situazioni vi ha guidato, vi ha seguito. Sì, si è schierato ovviamente dalla nostra parte perché hanno, come dire, ben capito quello che è il problema. Insomma, noi siamo dei semplici burrattini fondamentalmente nelle mani di questo governo. Disfano e ridisfano le cose, insomma, al loro piacimento. Fortunatamente ci sono associazioni di categoria che, se non altro, tutelano o ci informano o abbiamo dei confronti con loro. Quindi questo va detto. Fortunatamente abbiamo un'associazione di categoria che, se non altro, il confronto ce l'hanno con noi operatori, ci assistono, sussistono, a volte anche psicologicamente, chiaramente, che non è facile in questo momento. Anche perché ci sono delle incombenze burocratiche talvolta complesse, degli adempimenti complessi, faraginosi, che quindi in questo caso l'organizzazione di categoria a cui fate parte, Confartigianato Taranto, ha cercato di, come dire, semplificare. Certamente che sì, ha cercato di semplificare, venendoci incontro, appunto, come dicevo prima, con degli incontri anche con, insomma, gli uffici di competenza, insomma, hanno dato un supporto agli imprenditori. Tenendo presente che noi siamo una piccola impresa, ma come a me ce ne sono tantissime altre, che sono quelle che reggono il tessuto economico di questa nostra realtà tarantina. Che, voglio dire, è già tanto che c'è un'associazione che riesce, se non altro, ad accompagnarci in questa vicenda. Materialmente e moralmente. Materialmente e moralmente, ovviamente, anche psicologicamente, anche lo scambio di una telefonata con la Presidenza, insomma, è un modo per interagire, per sentire chi aria tira, insomma, anche per darci un po' di tranquillità psicologica e che noi, a nostra volta, possiamo trasmettere ai nostri collaboratori. Siamo con Raffaele Zanframundo a Massafra, presso la sua pasticceria. Cerchiamo di capire un po' come le misure restrittive del DPCM abbiano avuto e abbiano un peso notevole, comportino delle conseguenze notevoli in ambito, appunto, economico. Come stanno andando le cose? Buonasera, prima di tutto vorrei sottolineare che la pasticceria è mia, ma anche dei miei fratelli. Abbiamo ereditato dal papà, il papà da nonno, quindi sono generazioni che portiamo avanti. Tradizione familiare. Tradizione familiare, dai primi del Novecento che la mia famiglia fa pasticceria. Purtroppo siamo forse uno dei settori che più ha subito la pandemia, perché noi abbiamo avuto, parlo del lockdown scorso, un 80% in meno di lavoro, di fatturato, che c'è stato sì, in parte, come si dice, col ristoro avuto dell'epoca, ma è stata poca cosa. Quello attuale ci auguriamo che l'emergenza che sta per arrivare o che è quasi arrivata non sia gestita alla stessa maniera dell'altra, perché obbligare a chiudere bar, ristoranti, pasticcerie alle 18, lasciando poi la grande distribuzione o magari l'alimentare che ti vende il dolce, qui i dolci li troviamo anche nei latticini, nei caseifici, quindi fare una, obbligare, una chiusura totale e come la penso io come proposta, o soffriamo tutti allo stesso modo o niente. Altrimenti, le dicevi, ci sono delle categorie penalizzate rispetto a, basta vedere, basti vedere gli ipermercati aperti, è una beffa. Esatto, io dicevo proprio questa è la grande distribuzione che continua a vendere, avere il bar aperto, magari la ristorazione, la focaccia, il dolce, non è giusto nei confronti delle categorie penalizzate con la chiusura alle 18. Lei fa parte di Confartigianato Taranto, parliamo di questo supporto e apporto che ha dato a lei e agli altri operatori di categoria. Dunque, il supporto che ci ha dato, soprattutto nella persona di Fabio Paolillo, qualsiasi, che so, dubbio o magari chiarimento, abbiamo sempre chiamato la Confartigianato che ci ha subito delucidato su tutte e anche magari consigliato su come agire, come affrontare determinate problematiche che abbiamo trovato man mano, perché essendoci trovati davanti a un'emergenza nuova, nessuno sapeva come muoversi, poi la legge si sa, ha tutte quelle interpretazioni da una parte difficili, capuziose. Per avere un punto di riferimento come la Confartigianato ci ha alleggerito un po' questo peso. Stiamo cercando un po' di comprendere come i ristoratori, i bar, le attività che hanno subito e stanno subendo le conseguenze del DPCM, conseguenze di chiusura a una certa ora, stiamo vedendo come cercano di reagire, che clima stanno vivendo. Immagino ovviamente il calo notevolissimo, pesante delle entrate. Siamo qui a Taranto con Franco Tamborrini nel suo locale, la nota attività, ristorante e pizzeria Santa Caterina in Viale Magna Grecia. E allora alle 18 il Big Ben dice stop. Ci siamo fermati, siamo in ginocchio, non vedo per quale motivo ci è stata questa fermata, quando noi abbiamo sempre osservato delle misure di sicurezza, ci atteniamo a tutte le disposizioni per quanto riguarda, poi c'è questo terrorismo mediatico di tutti, si accende nella televisione e la gente ha paura, non sa cosa fare, questo è il particolare, dice alle 18 i ristoranti chiodono. D'altronde voi applicate le misure anti-Covid, le prescrizioni anti-Covid in maniera scrupolosa, in maniera pignola, quindi non si capisce per quale motivo a pranzo sì e la sera no, quando la sera verrebbero applicate le stesse prescrizioni della mattina. Ma abbiamo il locale aperto, il discorso è che abbiamo tutto quello che deve funzionare, mi dice come si può mandare avanti un'attività con le stesse persone, perché abbiamo bisogno, c'è, devi conquistare le merci, la luce sta accesa, i dipendenti ci sono sempre... Fate solo l'asporto. Facciamo solo l'asporto la sera, a mezzogiorno già abbiamo perso il 50% a mezzogiorno con tutti che rimaniamo aperti, perché la gente non sa, ha paura, ha paura, questo è il discorso che non sa, a volte chiama e dice ma possiamo venire, si può accedere, c'è qualche cosa, non puoi... C'è certamente uno stato di apprensione oltretutto, è matematico purtroppo, che poi alla fine a lungo andare questa situazione si riverbererà anche sui dipendenti. Assolutamente, perché comunque a fine mese la gente sta lavorando, perché comunque abbiamo bisogno che, come vedete, ci sono gente, a mezzogiorno si lavora in quello che si può fare, la sera dobbiamo fare l'asporto, devi tenere l'attività in piedi, ma con che cosa? Facciamo meno del 50%, c'è, meno del 50%, magari potevamo fare il 50%, questo è tutto nel... Oltretutto queste situazioni, c'era tutta l'estate perché a livello nazionale e a livello regionale ci si organizzasse per evitare di arrivare poi a ottobre a chiudere di nuovo tutto e ho terrore anche che, non per fare il profeta di sventure, ma che qui andremo anche oltre, rischiamo di andare proprio al lockdown totale. Speriamo, speriamo, c'è in pratica come dobbiamo fare, c'è in pratica se non arrivano degli aiuti, c'è in pratica che noi stiamo aperti, c'è tanti ristoranti che sono già chiusi. E poi magari non riapriranno proprio più. C'è il rischio di non aprire più, come si fa? Si deve pensare a degli aiuti che devono sostenere totalmente tutto questo danno. Oltretutto, sì, il governo Conte fa la politica degli annunci, sembrava quasi, sentendo le sue parole, che già i soldi fossero stati accreditati, fossero già accreditati sul conto corrente e poi abbiamo visto le peripezie per la storia dei 600 euro, i ritardi nella cassa integrazione. Cioè si fa vedere una realtà felice, paradisiaca, che così non è. Qui ci si ritrova con gli imprenditori che vanno al di sotto, al 40% degli incassi, se tutto va bene, con i dipendenti da pagare e siamo sull'astrico. Assolutamente, c'è in pratica, ribadiamo sempre, come abbiamo detto prima, non ci sono le condizioni per andare avanti. Qua c'è il rischio di chiusura, chiusura totale, non ce la facciamo. Grazie.